Ciao a tutti, come ben sapete qui da noi in Giudici Moto ogni usato che arriva in vendita ha sentito sicuramente una cinquantina di controlli per arrivare nelle condizioni perfette. Oggi vi presentiamo un bellissimo YZ-Tent 125R, un gioiello, una moto immatricolata nel 2015 con soli 2.900 km, praticamente in condizioni in pari di nuovo, gommata, taglia andata, pronta a partire tipicamente in stile della Giudici Moto. Se volete venire a scoprire qualche informazione in più su questo splendido 125 che un po' racchiude la tradizione Yamaha, ci trovate a Carono Bertosella in Via Benziz 800 oppure sul nostro sito internet giudicimoto.it